Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Dopo la fondamentale parabola del seminatore, ecco tre parabole del Signore che ci aiutano a rispondere ad alcune domande fondamentali per la nostra vita spirituale. Perché spunta il male in noi e attorno a noi? E come agisce Dio nel cuore e nella storia? Vediamo un po'. La prima parabola è la parabola del grano e della zizzania. Gesù ci dice che il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Ecco, dobbiamo tener conto che c'è un nemico che semina in noi un seme cattivo, mentre il Signore semina la sua parola in noi, mentre lo Spirito Santo ispira al bene, il nemico, ovvero il diavolo, ci tenta e gli ama istigare al male, confondere, dividere, mischiare verità e menzogna. È il suo mestiere e non possiamo impedirlo. Sì, non possiamo pensare di vivere senza essere sottoposti alle insidie dell'avversario. Tanto più ci decidiamo per Dio e per compiere opere importanti e belle, tanto più saremo tentati e dunque tanto più avremo anche occasione per crescere ed esercitarci nella libertà. Perciò il libro del Siracide dice Figlio, se ti presenti per servire il Signore preparati alla tentazione, ma siamo ne certi. Il Signore non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, ma se permette la tentazione ci darà anche la grazia e la via per uscirne. Ora, è bello notare che nella parabola questo seme maligno viene seminato dopo il buon seme. Ci fa capire che il maligno cerca di ostacolare soprattutto chi, avendo accolto il buon seme della parola di Dio, vuol fare la sua volontà, ad esempio vuole uscire da un peccato o vuole progredire sulla via del bene. Ad esempio, il Signore mi illumina su un passo in più da compiere nella mia vocazione ed ecco la paura di non farcela. O il Signore pone in me il desiderio di lavorare più generosamente su un mio difetto, ecco l'impressione che sia troppo. O arriva il momento della preghiera e ne sento il desiderio ed ecco subito che mi vengono in mente altre cose da fare. Dunque, miei cari, non possiamo canonizzare tutto quello che ci passa per la testa. C'è da discernere, imparando a chiederci, ma questo pensiero, questo desiderio, dove mi porta ad amare di più e meglio il Signore o no? A donarmi più generosamente o no? Ora, nella parabola i servitori dicono al padrone vuoi che andiamo a raccogliere la zizzania? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sdradichiate anche il grano, lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura e allora dirò ai mietitori di raccogliere l'uno e l'altra dividendole. Dunque, cosa vorrebbero fare i servitori? Sradicare la zizzania, cioè vorrebbero risolvere tutto e subito, togliere di mezzo il male e chi lo fa. Attenti, spesso è un nostro problema. Ora ne vedremo tre declinazioni, una nel rapporto con noi stessi, una nel rapporto con gli altri e una nel rapporto con le vicende della vita. Partiamo dal rapporto con noi stessi. Man mano vediamo in noi la zizzania ed ecco che ci incaponiamo contro un nostro difetto, pretendiamo di risolverlo di netto, quasi con violenza, avendocela con noi stessi fino a quando non l'avremo debellato, salvo poi vederlo rispuntare qui e lì a sorpresa o vedendone spuntare altri dieci. È la smania del perfezionismo, miei cari, che ci rende cupi e ansiosi. Vivere così porta tra l'altro a ridurre la vita spirituale al purismo, a quello che non si deve fare. E così, presi nevroticamente dalla lotta contro noi stessi, perdiamo di vista gli altri, lo stare con gli altri, il donarci agli altri. E rischiamo di fare come quella persona, unicamente attenta a non sbagliare, al punto da presentarsi davanti al Signore fiera per le sue mani pulite, sentendosi rispondere dal Signore, sì le vedo, ma purtroppo vedo anche che sono vuote. E dobbiamo saperlo, miei cari, ci sono delle fragilità, delle vulnerabilità, dei difetti che ci accompagneranno tutta la vita. Alcune cose per grazia di Dio riusciremo a risolverle, altre a limarle, altre ci faranno buona compagnia per tutta la vita. Dunque, anziché prenderci in odio, è più saggio accoglierci umilmente, lavorare su noi stessi pazientemente, ma soprattutto volgere l'attenzione al buon seme, al buono che ci è stato donato, al bene che possiamo compiere. Perciò, come disse San Serafino di Sarov, bisogna essere pazienti verso se stessi e sopportare le proprie mancanze come si sopportano quelle degli altri, ma bisogna anche non lasciarsi prendere dalla pigrizia e sforzarsi sempre di migliorare. Davanti alle nostre mancanze non arrabbiamoci, non aggiungiamo un male ad un altro male, ma conserviamo la pace interiore e dedichiamoci con coraggio a convertirci. La virtù non è una pera che si mangia in un sol boccone. E addirittura Santa Teresina di Lisioe disse che in un certo modo la santità è non stupirsi dei propri difetti e di quelli degli altri, ma anzi edificarsi per i minimi atti di virtù. Ora, il rischio di essere intransigenti e di pretendere tutto e subito può toccare anche il nostro rapporto con le vicende della vita. Possiamo dire che con questa parabola il Signore attacca la nostra impazienza, invitandoci a lasciare andare avanti le cose fino alla loro naturale maturazione, fino a quando grano e zizzania non si distinguono nettamente. Questo non significa che a volte non si debba intervenire prontamente, ma è un rimedio al nostro interventismo. Quante volte pretendiamo di risolvere tutto e subito? Partiamo in quarta, senza ascoltare né Dio né gli altri, senza riflettere, dimenticando che la realtà è complessa e che non tutto è come sembra. Per questo, ad esempio, la Chiesa prende tempo prima di approvare o meno un'apparizione. Sa bene che grano e zizzania crescono insieme, perciò attende che le cose si chiarifichino in modo tale che la verità emerga. La parabola ci ricorda che c'è un tempo di crescita, di maturazione. Le cose man mano si chiarificano, bisogna saper attendere e anche saper sopportare sofferenze, persecuzioni, e ci vuole anche la sapienza di saper intervenire a tempo debito e nel modo giusto. Ma non solo, questa parabola ha tanto da dirci anche nel nostro rapporto con gli altri, ed è ciò su cui verte la spiegazione che Gesù dà ai discepoli. Gesù dice che il seme buono sono i figli del regno e la zizzania sono i figli del maligno, cioè coloro che ne seguono la logica, che scelgono il male. Come ha detto bene Papa Francesco, il buon seme e la zizzania, dunque, non rappresentano il bene o il male in astratto, ma rappresentano noi che possiamo accogliere e seguire Dio oppure il diavolo, il bene oppure il male. Tante volte abbiamo sentito che una famiglia era in pace, poi sono cominciate le guerre, le invidie, un quartiere era in pace, due nazioni erano in pace, poi sono cominciate cose brutte, le divisioni. E quante volte noi siamo abituati a dire questa persona con le chiacchiere semina zizzania? Eccomi cari, il problema non è un male astratto, ma è il male scelto e diffuso. Ora, l'intenzione dei servi qual è? Eliminare subito la zizzania, dunque eliminare le persone malvagie, coloro che qui ed ora stanno compiendo il male. Quante volte siamo tentati da forme di giustizialismo, condanniamo gli altri senza appello o li riduciamo alla somma dei loro difetti, li tagliamo fuori non appena non rientrano nei nostri parametri, o ci accaniamo contro i difetti degli altri, pensando di cambiarli a suon di rimproveri. Immaginate che clima in una famiglia o in una comunità così. I servi della parabola vorrebbero dunque sradicare la zizzania, ma il padrone è più vede più lontano, sa attendere. Come dice la prima lettura, è indulgente. Solo alla fine avverrà la separazione tra buoni e cattivi. Pensate, se Dio non fosse indulgente avremmo dei santi come ad esempio San Paolo, che prima perseguitava e uccideva i cristiani, o come San Francesco, che da giovane bighellonava, o come il buon ladrone, che si è salvato last minute. E quanti di noi saremmo qui, e se Dio non fosse misericordioso e paziente con noi? Il male va chiaramente rigettato, ma con i malvagi bisogna usare pazienza, pregando, sperando e agendo in vista della loro conversione. Pensate ad un genitore che ha amato il figlio, ha seminato nel suo cuore cose belle, e magari adesso lo vede lontano, smarrito. Qual è la speranza se non la conversione del figlio, la sua maturazione, la speranza che quei semi belli, piantati nel suo cuore, giungano a pienezza? Ma questo potrà avvenire solo nel tempo e gradualmente. D'altronde, come ci ricordano le altre due parabole del chicco di senape che cresce fino a diventare un albero e del lievito che fa fermentare la pasta, Dio opera così, gradualmente. Man mano plasma il cuore e la vita di coloro che lo accolgono. Non si cambia ad un non ci si risolve con un ciclo di catechesi. Le cose di Dio partono piccole, nascoste e nel tempo crescono. Seppur ostacolate, le cose di Dio si fanno da sé, cioè vanno avanti e sono a beneficio di tanti. Come il semino, che man mano cresce diventa un albero dove tanti si riparano. Come il lievito nella pasta che man mano la fermenta rendendola nutrimento per tanti. Cari fratelli e sorelle, come ci ha ricordato ancora il Papa, il Vangelo di oggi ci presenta dunque due modi di vedere e di agire. Quello dei servi, che vorrebbero tutto e subito, e quello del padrone, che invece dà tempo di crescere. Quello dei servi, a cui sta a cuore togliere le erbacce, e quello del padrone, a cui sta a cuore il buon grano. Il Signore ci invita ad assumere il suo sguardo, che si fissa sul buon grano, che sa custodirlo anche tra le erbacce. Ciò che conta non è andare in ansia per la zizzania, ma valorizzare il grano buono, essere meno ossessionati dal perfezionismo e più intenti al bene da incentivare da compiere, certi che il Signore sa custodirlo e portarlo a pienezza. Lasciamo dunque che sia Lui a tirare i conti, ma solo alla fine e solo dall'alto del suo infinito amore. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!